mangia sanna ecco sono entrati tutti vediamo se ecco lì un annuncio in testa il terzo è il terzo è compilation con Guglielmi vediamo come se la cava adesso perché l'andranno sicuramente ad attaccare il secondo è vediamo Pacini lo sta accoppiando il numero 4 arriva anche compilation con Guglielmi questa costita dove l'ho persa ecco lì va siamo alla fine del secondo giro arriva Guglielmi con questo compilation vediamo che farà perché la torta vizze veramente in una maniera devastante terza dovrebbe essere coca resiste però mannuccio ormai non lo va a prendere più non credo che lo vada a prendere vediamo ora l'ho detto in dirittura non credo che lo vada a prendere vediamo niente vince Pacini secondo è Guglielmi e terzo è Pacini conquista cositta ecco quindi vince Capriore Bonoro apposta lo buttava scusate la foto lo buttava Elias Mannucci e non Mula quindi dopo ve lo correggo a posto di Mula ho montato Mannucci Capriore Bonoro Capriore Bonoro secondo compilation e terzo è cositta bene